Sono ufficialmente in stato di agitazione i dipendenti del Neuromed. Il motivo riguarda la decisione annunciata nei giorni scorsi dal presidente della regione Toma di bloccare i rimborsi sulle prestazioni ambulatoriali a quelle strutture private e convenzionate che non hanno firmato il nuovo contratto, come prevede la legge. Il rischio principale è quello di non poter più fornire servizi, a meno che non siano a carico degli utenti, ma in ballo ci sono anche decine di posti di lavoro. Dura la presa di posizione di Stefania Passarelli, sindaco di Pozzilli e dipendente del Neuromed. I dipendenti non si sentono più cautelati da questa regione. Siamo stanchi, i cittadini oramai sono stanchi. Sono stanchi che non possono curarsi dove vogliono, sono stanchi che adesso sono bloccate le prestazioni e quindi chi non ha i soldi non può fare i controlli, oppure non solo i controlli, curarsi. Ed è veramente una vergogna, una vergogna che questa regione non si può proprio più permettere. Quindi invoco anche le persone che stanno a Roma, i nostri deputati, i nostri parlamentari, di fare qualcosa. È arrivato il momento di dire basta, basta con tutte queste lotte fratricide. La politica è un conto, la sanità è un'altra. I cittadini hanno il diritto, dovere di curarsi e lo devono fare dove vogliono. In tutte le parti d'Italia ci sono gli IRCS, in Lombardia c'è la maggior parte degli IRCS, dove il governo addirittura gli dà dei fondi a fine anno. Quindi non si capisce più perché questo gioco al massacro.